Se riconoscere i personaggi storici più famosi, scrivi nei commenti quante ne indovinate. Credo sia Darwin quello che ha scritto la teoria dell'evoluzione. Non idea di chi si ama, dei vestiti sembra inglese. Sicuramente un filosofo, credo Platone o Aristotele. Gengis Khan si capisce dei vestiti. Questo è facile, George Washington. Abraham Lincoln, il primo presidente degli USA. Shakespeare si riconosce dall'orecchino. Napoleone, classica foto con la mano dentro.